In questo tutorial vediamo come risolvere disequazioni di secondo grado. Partiamo da questo primo esercizio. Abbiamo x alla seconda meno 4x minore di 0. Come prima cosa andiamo a controllare il coefficiente di x quadro. Ci assicuriamo che sia maggiore di 0. Una volta che abbiamo controllato che il coefficiente di x quadro sia positivo, passiamo all'equazione associata. E allora andiamo a scrivere x alla seconda meno 4x uguale 0. Andiamo ora a risolvere questa equazione. Risulta essere un'equazione spuria. Possiamo mettere in evidenza una x. Apro la tonda. x meno 4 uguale 0. Ora abbiamo il prodotto di due fattori uguali a 0 e poniamo uguale a 0. Prima il primo fattore, ossia x, e si ottiene x uguale 0. Poi poniamo uguale a 0 il secondo fattore, x meno 4 uguale 0. Porto meno 4 al secondo membro e si ottiene x uguale 4. Avendo ottenuto due soluzioni, 0 e 4, questo significa che la parabola associata all'equazione taglia l'asse delle x in due punti di ascissa x uguale 0, x uguale 4. Rappresento graficamente la parabola che taglia l'asse delle x. Il primo valore corrisponde ad x uguale 0. Il secondo valore corrisponde ad x uguale 4. Effettuo ora lo studio del segno. Per valori minori di 0, la parabola si trova al di sopra dell'asse delle x, quindi risulta essere positiva. Per valori tra 0 e 4, la parabola si trova al di sotto dell'asse delle x, e allora risulta essere negativa. Per valori maggiori di 4, la parabola risulta essere positiva, e allora metto un più. Osservo che in corrispondenza di 0 e di 4, la parabola non è né positiva né negativa. Risulta avere ordinata nulla, e quindi metto un uguale a 0. Torno ora alla disequazione, e vedo la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è minore di 0. Nel disegno, il minore di 0 lo vedo nell'intervallo compreso tra 0 e 4, e allora come soluzione scrivo x compreso tra 0 e 4. Passiamo a questo secondo esempio. Abbiamo x alla seconda più 2x più 1, maggiore o uguale a 0. Osservo che il coefficiente di x quadro risulta essere positivo. Se fosse negativo, avrei cambiato di segno e di conseguenza diverso. Dopo aver fatto questo controllo, passa all'equazione associata, e scrivo x alla seconda più 2x più 1 uguale a 0. Ho così un'equazione di secondo grado completa che vado a risolvere. Applico la formula risolutiva. x uguale meno b, ossia l'opposto di 2, e allora scrivo meno 2, più o meno radice quadrata di b alla seconda. 2 alla seconda è pari a 4. Poi meno 4 per 1 per 1, e quindi scrivo meno 4 tutto quanto fratto 2. 4 meno 4 è pari a 0, la radice di 0 è 0, quindi quello che resta è meno 2 fratto 2. Semplificando, si ottiene meno 1. Questo significa che la parabola associata all'equazione taglia l'asse delle x in un sol punto. Vado a rappresentare la parabola che taglia l'asse delle x in un sol punto. Vuol dire che la parabola è tangente all'asse delle x in corrispondenza di x uguale a meno 1. Effettuo ora lo studio del segno. Per valori minori di meno 1, la parabola è al di sopra dell'asse delle x, e quindi dico che è positiva. Per valori maggiori di meno 1, la parabola si trova al di sopra dell'asse delle x, e quindi dico che è positiva. In corrispondenza di meno 1, la parabola non è né positiva né negativa, e allora metto un uguale a 0. Torno ora alla disequazione e vedo la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore o uguale a 0. Osservo che il maggiore di 0 lo vedo per valori minori di meno 1 e maggiori di meno 1. L'uguale a 0 lo vedo in corrispondenza di meno 1. Per quanto riguarda la soluzione, dovrò prendere questo intervallo, questo intervallo e questo punto. Quindi sto prendendo tutto l'asse reale, e allora come soluzione scrivo r. Vediamo questo terzo esempio. Come prima cosa osservo che il coefficiente di x quadro risulta essere minore di 0. Moltiplico allora tutto quanto per meno 1, ed ottengo x alla seconda meno 3x da maggiore o uguale, passo a minore o uguale di 0. Ora passo all'equazione associata e scrivo x alla seconda meno 3x uguale a 0. Ottengo un'equazione di secondo grado spuria. Metto in evidenza una x. Apro una tonda ed ottengo x meno 3 uguale a 0. Ho il prodotto di due fattori uguali a 0, e allora devo porre uguale a 0 prima il primo fattore, ossia x uguale a 0, e poi pongo uguale a 0 il secondo fattore, ossia x meno 3 uguale 0. Porto meno 3 al secondo membro ed ottengo x uguale 3. Ho ottenuto così due soluzioni, 0 e 3, e questo significa che la parabola associata all'equazione taglia l'asse delle x in due punti. Rappresento la parabola associata a questa equazione. La prima intersezione con l'asse delle x è pari a 0, la seconda intersezione con l'asse delle x risulta essere pari a 3. Effettuo ora lo studio del segno. Per valori minori di 0, la parabola si trova al di sopra dell'asse delle x, quindi risulta essere positiva. Per valori tra 0 e 3, la parabola si trova al di sotto dell'asse delle x, quindi risulta essere negativa. Per valori maggiori di 3, la parabola è al di sopra dell'asse delle x, e quindi risulta essere positiva. Fisso ora la tensione in x uguale 0 e in x uguale 3. In questi due punti la parabola non è né positiva né negativa, e allora mettiamo un uguale a 0, cioè significa che la sua ordinata y è nulla. Ora devo andare a vedere la domanda. La disequazione che devo guardare è questa, ossia è la disequazione prima di passare all'equazione associata. Mi viene chiesto quando questa quantità risulta essere minore o uguale a 0. Dal disegno, il minore di 0 lo vedo nell'intervallo 0,3. L'uguale a 0 lo vedo in corrispondenza di x uguale 0 e di x uguale 3, e allora come soluzione devo scrivere x compreso uguale tra 0 e 3. Passiamo a questo terzo esempio. Come prima cosa passa all'equazione associata, x alla seconda più 2x più 3 uguale 0. Ho un'equazione di secondo grado completa e allora applico la formula risolutiva. x uguale meno b, ossia meno 2, più o meno radice quadrata di b alla seconda, 2 alla seconda è pari a 4, e poi meno 4 per 1 per meno 3 ottengo meno 12, tutto quanto fratto 2a, ossia fratto 2. 4 meno 12 risulta essere pari a meno 8, quindi posso cancellare e scrivere direttamente meno 8. Visto che non posso estrarre la radice quadrata di un numero negativo in r, dico che questa equazione risulta essere impossibile. Questo significa che la parabola associata all'equazione non ha intersezioni con l'asse delle x. In figura ho disegnato la parabola associata a quest'equazione che non tocca l'asse delle x. Effettuo ora lo studio del segno. Osservo che la parabola si trova sempre al di sopra dell'asse delle x e quindi risulta essere sempre positiva. Una volta effettuato lo studio del segno, torniamo alla disequazione e vediamo la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità risulta essere minore di 0. Nello studio del segno il minore di 0 non lo vedo mai e allora concludo che la disequazione risulta essere impossibile. Vediamo quest'ultimo esempio. Come prima cosa osservo che il coefficiente di x quadro risulta essere negativo. Allora moltiplico tutte e due membri per meno 1 ed ottengo un mezzo x alla seconda più 2x da maggiore o uguale devo passare a minore o uguale di 0. Effettuo ora il minimo comune multiplo che risulta essere 2. 2 diviso 2 è 1 per x quadro e scrivo x quadro poi più devo moltiplicare 2 per 2x ed ottengo 4x. A secondo membro si ottiene sempre 0. Semplifichiamo ora i denominatori. Abbiamo così x alla seconda più 4x minore o uguale di 0. Ora passo all'equazione associata e scrivo x alla seconda più 4x uguale 0. Ho un'equazione di secondo grado spuria e allora metto in evidenza una x che moltiplica x più 4 uguale 0. Ora che ho il prodotto di due fattori uguali a 0 pongo uguale a 0 prima il primo fattore ossia x uguale 0 e poi pongo uguale a 0 il secondo fattore ossia x più 4 uguale 0. Portando il 4 al secondo membro si ottiene x uguale meno 4. Ho così due soluzioni 0 e meno 4. Questo significa che la parabola associata all'equazione taglia l'asse delle x in due punti. Vado a rappresentare graficamente la parabola associata a questa equazione. Il primo punto di intersezione ha ascissa pari a meno 4. Il secondo punto di intersezione ha ascissa pari a 0. Effettuo ora lo studio del segno della parabola. Per valori minori di meno 4 la parabola si trova al di sopra dell'asse delle x quindi risulta essere positiva. Per valori tra meno 4 e 0 la parabola è al di sotto dell'asse delle x quindi risulta essere negativa. Per valori maggiori di 0 la parabola risulta essere positiva e allora metto un più. In corrispondenza di meno 4 e di 0 la parabola non è né positiva né negativa quindi metto un uguale a 0 ciò significa che la sua ordinata è nulla. Ora vado a vedere la domanda. Devo guardare la disequazione prima del passaggio all'equazione associata quindi fisso l'attenzione su questa disequazione. mi viene chiesto quando questa quantità è minore o uguale di 0. Il minore di 0 lo vedo in questo intervallo tra 0 e 4. L'uguale a 0 lo vedo in corrispondenza di x uguale meno 4 e x uguale 0. E allora come soluzione devo scrivere x compreso uguale tra meno 4 e 0. E con questo termino il tutorial su esempi di disequazioni di secondo grado.